Il comunicato del CONAPO, il sindacato dei Vigili del Fuoco, è molto puntuale nelle motivazioni della manifestazione nazionale di domani mattina a Roma, davanti alla Camera dei Deputati, dove converranno tantissimi Vigili in divisa, tra i quali anche da Campobasso e dal Molise. Il CONAPO afferma in una nota che i Vigili del Fuoco sono sempre in prima linea contro ogni calamità in difesa della sicurezza dei cittadini, eppure il trattamento retributivo e pensionistico che ricevono rispetto agli altri corpi di polizia è ben diverso e chi governa continua a fare orecchie da mercante e non dare mai soluzione a questo problema. Lamenta che ai Vigili è corrisposta una somma pari a 300 euro al mese in meno agli emolumenti percepiti dalle altre forze, che pure sono sottopagate e che nessun riconoscimento dei servizi operativi ai fini pensionistici viene loro corrisposto. Una situazione che considera un affronto che i pompieri non riescono più a digerire, anche perché, dopo le tanti lodi pubbliche, i soldi non si trovano mai e le loro problematiche finiscono sempre all'ultimo posto dell'agenda. La manifestazione per dire basta a questo trattamento da serie B, si afferma, non chiediamo nessun privilegio ma solo parità di trattamento. I Vigili del Fuoco non solo sono i peggio pagati tra i corpi dello Stato, ma secondo la ragioneria generale si trovano agli ultimi posti nella classifica delle retribuzioni del pubblico impiego.